ciao a tutti da luca speranza oggi vi presenterò un estratto di zenzero sedano e mele questo succo è molto buono per il metabolismo attivare il metabolismo e a causa anche del sedano è un ottimo remineralizzante naturale un'attenzione da fare per gli estrattori essendo molto fibroso il sedano andrebbe tagliato a pezzettini piccoli 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 useremo anche lo zenzero e la nostra amata mela il fatto di tagliarli pezzettini piccoli evita che le fibre si avviluppino intorno all'interno dell'estrattore il limone se vogliamo possiamo metterlo o no a seconda del nostro gusto in questo caso noi ne metteremo metà mettiamo il limone prima lo zenzero la prima parte di mela la prima parte di mela Eccoci qui, ecco il nostro succo. Abbiamo usato una mela, due gambi di sedano, un pezzettino di zenzero e mezzo limone. Ecco qui il nostro succo. Grazie per la visione!